salve a tutti ben ritrovati e bentornati nel nostro showroom un avviso molto importante da domani e per tutte le domeniche di dicembre ci sarà un evento molto bello e molto divertente per tutti voi il natale in vivaio dalle 9 alle 19 di tutte le domeniche saremo qui presenti per aspettarvi e per personalizzare insieme a voi i vostri regali di natale per amici e parenti mi raccomando venite con i vostri bambini perché vi assicuro vi divertirete alle prese con la realizzazione dei vasi personalizzati l'intaglio del legno e tante altre attività tra cui anche i corsi dei correcò per personalizzare la vostra tavola di natale e i vostri appartamenti mi raccomando vi aspetto in via nazionale 34 presso il nostro showroom nei pressi del centro commerciale a Policoro a presto